Come saprete, a me non hanno dato il codice di God of War per fare la recensione come tutti gli altri e quindi mi sono detto ma perché non facciamo una specie di video Metacritic in cui andiamo ad analizzare i contenuti delle recensioni e non i valori numerici come fa invece Metacritic e realizziamo quindi questa sorta di recensione delle recensioni, un'analisi comparativa per tirar fuori pregi e difetti di Ragnarok solo tramite la comparazione delle varie recensioni e senza parlare minimamente dei valori numerici come fa ovviamente Metacritic Per realizzare questo video ho confrontato le recensioni di Pierpaolo Greco di Multiplayer quella di Raiden dei Player Inside, quella di Domenico Musico per Spazio Games quella di Falco Nero e quella di Alessio Filippelli per Game Time Prima di iniziare vi ricordo che vado in live tutti i giorni su Twitch e trovate il link per seguirmi ovviamente in descrizione e soprattutto sappiate che porterò Ragnarok nella sua interezza in live su Twitch iniziando al day one, quindi iniziando mercoledì 9 dalle 9 di mattina io raga vi aspetto veramente, veramente in tanti Ovviamente in questo video non ci saranno assolutamente spoiler ho anche tagliato fuori delle parti che alcune riviste invece avevano raccontato che secondo me non andavano raccontate e non vi dico nient'altro assolutamente zero spoiler, guardatevi il video con tranquillità ora c'è una questione da affrontare i giochi eccellenti che rientrano in quella forbice di valutazione che vanno tra il 9 e il 10 non hanno ovviamente molti difetti o difetti molto grossi ma perché si creino delle discriminanti fra prodotti da 9,2 e 9,7 bisogna pur evidenziare quelle che sono le criticità di questi prodotti per quanto piccole sempre di eccellenze si parla ovviamente probabilmente di capolavori senza tempo quando siamo su quella forbice di valutazione ma non di opere perfette perché ovviamente l'opera perfetta non esiste dunque se mi sentirete parlare di difetti non pensiate che lo faccio per parlarmare di Ragnarok perché voglio in qualche modo sconsigliarvelo sarebbe da pazzi non è assolutamente questo il caso ho amato ovviamente alla follia God of War del 2018 e so che amerò pure questo gioco qua il lavoro che mi propongo di fare con questo video è di analisi comparata voglio capire io stesso in primis ovviamente e poi far capire a voi tramite la lettura e il confronto di tante recensioni quali sono i punti di forza e i punti di debolezza certi di God of War Ragnarok e che sono certi perché sono condivisi da tutti o comunque da molti recensori e sia quindi sempre ben chiaro che siamo di fronte ad un gioco della madonna perdonate il francese e ricordate anche che nulla di ciò che dirò è frutto della mia esperienza o delle mie impressioni mi limiterò a fare un riassunto delle opinioni di chi il gioco l'ha giocato iniziamo parlando di alcuni difetti alcuni dei difetti più frequentemente riportati sono quelli relativi alla storia e alla narrazione su questo concordano più o meno tutti i recensori e poi dopo aver detto quanto la storia in realtà sia comunque bella ognuno di loro va a cercare a scovare delle piccole falle nell'impianto narrativo Raiden sostiene che il focus sull'emotività dei personaggi rischia di far sfociare un po' il gioco nel patetico in certe situazioni trivializzando una storia che perde un po' da efficacia e di verosimiglianza a furia di concentrarsi su delle dinamiche familiari un po' stereotipate Raiden definisce certi momenti proprio un po' cacciaroni come se il gioco fosse quasi un hero movie a la Avengers a questo proposito trovo molto interessante forse anche un po' preoccupante la prospettiva di round 2 ovvero di fossa e mottura che criticano apertamente la narrazione entrambi riscontrano infatti dei problemi di ritmo del gioco che diluisce un po' troppo la linea narrativa principale in un mondo forse troppo pieno di cose da fare di secondarie e di terziarie secondo loro il gioco sarebbe un po' vittima di quella tendenza alla quantità ad ogni costo che ultimamente dilaga nel mondo videoludico inoltre parlando proprio di Avengers e di Marvel secondo mottura il tono di Ragnarok è a tratti troppo cartunesco e disneyano e si distacca così dal carattere narrativo più maturo e serioso di God of War 2018 se così fosse a mio avviso sarebbe veramente un peccato anche Filippelli di Game Time si sofferma sulla banalità di alcuni temi toccati in particolar modo quello degli affetti familiari anche qua ma ci tiene a sottolineare che la relazione fra Kratos e Atreus è sviluppata in maniera assolutamente eccelsa Greco di multiplayer è sostanzialmente d'accordo con Raiden e Filippelli e ravvisa da parte sua anche un tono esageratamente leggero in certe situazioni e anche un po' scansonato e poi tutti i recensori presi in considerazione si sono mostrati concordi nel criticare alcuni archi narrativi che vengono conclusi in maniera decisamente troppo sbrigativa poi c'è un altro difetto che a mio avviso è un difetto meme ed è quello legato al mancato salto a livello tecnico essendo Ragnarok un gioco frutto di esigenze cross gen ed essendo uscito anche a soli 4 anni dal precedente capitolo non ci si poteva aspettare molto di più comunque tutti i recensori accennano a questo tra virgolette problema ma giustamente sempre minimizzandolo altra questione problematica è la mancanza di boss fight giganti ed epiche che sì ci sono ma sono davvero centellinate a quanto pare a differenza di quanto non accadesse invece nella trilogia originale costellata di boss fight memorabili e cariche di epicità a dire il vero poi questa mancanza era anche presente in God of War 2018 quindi non è qualcosa di nuovo il DualSense poi viene utilizzato d'ufficio non cercate le sperimentazioni di Astros Playroom o Returnal perché qua non le troveremo è un po' un peccato ma anche qua difettuccio ecco i difetti come vedete sono davvero minuzie tranne forse per quello relativo alla storia ma lì poi in realtà secondo me entra in gioco un po' anche il gusto e l'esperienza personale fino ad un certo punto quindi tranne quello gli altri mi sembrano tutti veramente molto piccolini e adesso parliamo un po' dei pregi di pregi questo gioco ne è pieno pienissimo iniziamo con quello indubbiamente più evidente e che va a rimediare ad uno dei difetti del capitolo precedente ovvero la varietà di nemici sono tutti d'accordo i vari recensori nel dire che Ragnarok ci presenta una varietà di nemici infinitamente superiore a quella del precedente capitolo ogni reame ha i suoi nemici tipici e ci sono moltissimi mini boss diversi che invece scarseggiavano largamente nel primo capitolo tutti tranne forse Raiden ci tengono poi a sottolineare quanto quei difetti narrativi di cui parlavamo siano in realtà difetti di poco conto e quanto alla fine questa storia sia comunque ottima con più personaggi e più interazioni con il mondo rispetto al passato oltretutto i personaggi presentano una caratterizzazione e una profondità psicologica addirittura migliore di quanto visto con God of War 2018 insomma anche l'impianto narrativo al netto di alcune storture di cui abbiamo già parlato sembra molto molto buono altro aspetto su cui tutte le testate sono d'accordo è la varietà e la profondità del sistema di combattimento che è stato migliorato ed ampliato enormemente ci sono una valanga di opzioni di attacco che non dipendono esclusivamente dalle armi usate ma anche dalle combinazioni fra diverse metodologie di attacco all'interno di ogni singola arma e dalle combinazioni di attacchi con varie armi sono presenti cariche, attacchi leggeri, pesanti, runici, combo e anche mosse nuove e completamente inedite ci sono anche vari tipi di scudo ognuno con il proprio colpo speciale e addirittura pure la furia di Sparta ha più modalità e in più c'è anche Atreus il combat system sembra davvero essere spettacolare lo hanno sottolineato tutti e sinceramente non vedo l'ora di provarlo insieme a voi ve lo ripeto in live su Twitch mercoledì 9 novembre dalle 9 di mattina la personalizzazione del personaggio è stata lodata in egual modo da tutti Filippelli dice che nessun setup è realmente più forte di un altro ma solo più adatto ad uno stile di gioco preciso e qua lo cito proprio tutto è buono tutto è usabile dipende solo dal vostro stile di gioco personale quindi mi viene da dire che God of War Ragnarok è ancora più tendente verso un buon gioco di ruolo da questo punto di vista della personalizzazione della build rispetto al capitolo precedente e questa per me è un più 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 un super più nonostante la longevità circa 30-35 ore di gioco per la storia principale quasi tutti concordano nel sottolineare come in realtà le quest secondarie e terziarie siano molto significative e di qualità Santa Monica non ha cercato di diluire il gioco ma di arricchirlo invece con quest che dettagliano la storia e la lore del gioco in maniera minuziosa questo emerge da quanto ho letto nelle varie recensioni per quanto riguarda la durata e qui siamo un po' nel casino perché c'è chi ha completato il gioco al 100% ottenendo tutti i collezionabili come anche i corvi di Odino in 70 ore c'è chi invece dice di aver completato la storia e qualche missione secondaria in 40 ore a mio avviso facendo un po' una stima, una media il gioco durerà circa 30-35 ore per la storia principale e tra le 70 e le 75 per chi vuole completare tutto al 100% un altro aspetto positivo notato da tutti si riscontra nella convincente evoluzione del rapporto padre-figlio Atreus infatti sarà più indipendente e si muoverà anche da solo sia nel gameplay sia a livello narrativo e questa volta quindi toccherà a Kratos seguire suo figlio che sia per rimediare alle sue irrequietezze adolescenziali oppure per dar seguito ad una giusta intuizione del ragazzo l'esplorazione e il combattimento inoltre beneficeranno dell'utilizzo delle lame del caos come rampino come si può evincere tranquillamente anche dai numerosi gameplay mostrati quindi non vi sto facendo spoiler il rampino apporta una marcata possibilità di esplorazione e combattimento verticale che è sicuramente un pro ed è una caratteristica menzionata un po' da tutti e adesso la grande domanda è un more of the same? notate che non ho inserito il fatto che sia un more of the same o meno tra i difetti perché raga non è un difetto a quanto emerge dalle recensioni a livello macroscopico la struttura del gioco è la stessa ma viene approfondita, perfezionata ed espansa in ogni suo aspetto dal combat system ancora più vario ancora più profondo all'esplorazione migliorata grazie a nuovi metodi di spostamento aka il rampino fino alle possibilità di personalizzazione del personaggio e creazione di una vera e propria build nel senso più gdr del termine tutto è come prima ma è più e meglio di prima e mo vi cito greco di multiplayer perché secondo me è stato un grande God of War Ragnarok è bello esattamente come il suo predecessore ma per motivi profondamente diversi è più maturo in tutte le dinamiche di gameplay più completo, più profondo e presenta un sistema di combattimento molto più vario stratificato e gratificante però nel suo essere un sequel così fedele e coerente con il passato perde per strada qualsiasi elemento di reale novità si diluisce nella sua progressione e si scrolla di dosso anche quel tono di epicità che aveva contraddistinto il soft reboot in fin dei conti è un more of the same un bellissimo, divertente, longevo more of the same greco è l'unico che ha il coraggio di dirlo perché l'espressione more of the same pare si sia macchiata un po' con il tempo di una connotazione negativissima che non ha assolutamente a mio parere motivo di essere God of War è un more of the same ma un more of the same di un capolavoro non è forse un altro capolavoro? non sarà chissà quanto innovativo ma è comunque, a quanto emerge dalle recensioni un grandissimo gioco da ricordare per anni e anni a meno che non ci abbiano preso tutti in giro ma francamente ne dubito grazie mille per aver visto il video io vi aspetto in live mercoledì 9 novembre dalle 9 di mattina con God of War Ragnarok nel frattempo in realtà stiamo portando Silent Hill quindi se volete potete anche seguirci nel frattempo con Silent Hill 2 grazie a tutti e ci vediamo alla prossima ciao raga